Grazie a voi per questo invito e sono davvero lieto di partecipare a questo vostro 54esimo congresso nazionale, quindi saluto e ringrazio per l'invito del Presidente Pregliasco, primo volontario e ringrazio tutti voi, tutti voi volontari. È una lunga storia quella vostra delle pubbliche assistenze, siete state protagoniste del Paese, della storia del nostro Paese, avete contribuito a promuovere, a consolidare i diritti umani e civili sanciti nella nostra carta costituzionale, valori universali come l'uguaglianza, la libertà, fraternità, gratuità, l'importanza anche del valore del dono, della gratuità, quindi solidarietà, mutualità in una parola della democrazia. Ed è soprattutto quindi importante essere qui, a nome della mia forza politica, per riconoscere l'importanza di questa vostra attività, l'importanza del volontariato, che è un'attività che riflette una visione solidaristica, positiva, a beneficio dell'intera comunità nazionale, soprattutto nei momenti di grandi difficoltà, soprattutto nei momenti addirittura di emergenza. E qui saluto anche Fabrizio Curcio, il capo della protezione civile, che ovviamente contribuisce fortemente con tutto il comparto a intervenire in momenti di emergenza e non solo. Sono vive nel mio ricordo personale, ma anche nel ricordo di tutti gli italiani, le immagini, anche le emergenze che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, a tacere di quelle, diciamo, più datate. A partire dal crollo del Ponte Morandi, sino alla più grave emergenza vissuta nel nostro paese dal dopoguerra oggi, l'emergenza pandemica. Ecco, senza di voi, sono anche qui perché non dimentico e non dimentichiamo, senza di voi non sarebbe stato possibile reggere l'impatto devastante di quell'emergenza che ci ha colto l'intera comunità nazionale, è stata colta impreparata, non avevamo mascherine, non avevamo respiratori, non eravamo attrezzati, primi nel mondo occidentale per reggere questo tsunami, questa forza d'urto devastante, e voi siete stati protagonisti di un impegno faticoso, poderoso, costante, per cui tutto il paese, credo di poter parlare al nome di tutti i cittadini, tutto il paese vi è grato. Se sono ancora, abbiamo fatto un percorso poi, perché chiaramente il riconoscimento bene, ma il riconoscimento deve tradursi anche in atti formali, che vi consentano di fare un percorso e di poter proseguire le vostre attività in modo anche più trasparente e più efficace sul piano concreto. Ecco perché è importante riconoscere e lavorare con voi, al vostro fianco, per creare un clima, un ambiente anche legale e giuridico a voi favorevole. Penso al decreto Cura Italia del 2020, con cui estendemmo l'accesso alla Cassa Integrazione in deroga, anche a favore degli enti del terzo settore, e prendemmo anche decisioni fondamentali per tutti gli enti del terzo settore, sospensione delle versamenti delle ritenute, contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, anche proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di esercizio. Penso al decreto Rilancio, dove prevedevo un importante incremento delle risorse per fronteggiare l'emergenza proprio a favore delle organizzazioni volontarie del terzo settore. Penso anche all'accesso alle risorse del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. E poi penso all'istituzione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore. Questo percorso deve continuare. Il Presidente Pregliasco ha ricordato un passaggio importante che ancora deve essere completato, cioè l'attuazione del codice del terzo settore. Come Movimento 5 Stelle vi assicuro la massima attenzione su questo percorso che ho avviato già durante i miei governi e ricordo già l'apporto del Movimento 5 Stelle per alcuni miglioramenti che sono fondamentali sul piano della disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie in materia di imposte sui redditi, imposte indirette e tributi locali, detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali. Il regime fiscale ovviamente che sia adatto per le organizzazioni di volontariato e per tutti gli enti del terzo settore. Questo perché è ovvio che qui c'è un dibattito tradizionale. Le agevolazioni ai vostri confronti, come spesso succede, provocano delle reazioni dei campanelli d'allarme. Ma è la Corte Costituzionale che riconosce il fondamento giuridico oltre che morale di questi interventi che potrebbero essere considerati di favore. E mi riferisco a una sentenza tra le più recenti del 2020 laddove il fondamento ancora una volta viene ribadito in quell'articolo 118 della Costituzione sul principio di sussidiarietà. E leggo le parole della consulta e poi mi avvio a conclusione. Si è quindi voluto superare, dice la Corte Costituzionale, l'idea per cui solo l'azione del sistema pubblico è intrinsecamente idoneo allo svolgimento di attività di interesse generali e si è riconosciuto che tali attività ben possono invece essere perseguite anche da un'autonoma iniziativa dei cittadini. Conseguenza del riconoscimento della profonda socialità che connota la persona umana e della sua possibilità di realizzare un'azione positiva e responsabile. Per cui gli enti che operano nel terzo settore costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale. E' il miglior riconoscimento questo del valore del volontariato che sono d'accordo deve conservare la sua autenticità. Autenticità significa conservare questa caratterizzazione, questa spinta volontaristica e questa vocazione altruistica e nello stesso tempo ovviamente deve consentire di realizzare un ecosistema simbiotico e mutualistico dove il ruolo delle comunità anche grazie all'intervento dello Stato possa essere opportunamente valorizzato. Il Presidente Pregliasco ha citato un concetto importante, ha evocato un concetto importante, quello di cittadinanza attiva. Attraverso il vostro contributo consentite di sentire tutte e offrite la possibilità alla più ampia plattità dei cittadini, di tutti i cittadini come prescrive la nostra Costituzione, di sentirsi protagonisti, parte attiva di questa nostra comunità, di poter partecipare, è il principio dell'articolo 3. Io credo forse è uno dei passaggi fondamentali della nostra Costituzione, di consentire a tutti i cittadini consapevolmente di essere protagonisti della vita politica, economica, sociale e culturale del nostro Paese e contribuiti anche a ridurre, se non eliminare, le diseguaglianze. Diseguaglianze che oggi sono pazzesche, d'altra parte in tempi di emergenza si acuiscono le diseguaglianze che sono territoriali e non solo tra nord e sud. Anche al nord, dico sempre, ci sono tanti sud, sono di genere, sono economiche e sociali. Concludo, occorre quindi favorire, lavorare tutti insieme per promuovere la partecipazione, il coinvolgimento del più ampio numero di persone in questo servizio sociale così decisivo. Ecco perché l'impegno del Movimento 5 Stelle è al vostro fianco, c'è stato, c'è e ci sarà. Porteremo nel dibattito politico queste vostre stanze e faremo di tutto ovviamente per rendere più efficace la vostra meritoria azione sociale. Buon congresso, Presidente Pregliasco, e buon congresso a tutti voi. Grazie, grazie onorevole Conte.